Ciao a tutti! Oggi vi faccio vedere questa apertura delle confezioni di Pet Parade. Cosa sono Pet Parade? Pet Parade sono questi cuccioli di giochi preziosi che funzionano attraverso dei magneti. Infatti non vanno a batteria, ma funzionano con delle calamite. Ci sono sia i gattini, eccone qua uno, questo grigio, e poi ci sono anche i cagnolini, che ce ne sono di diverse razze. I primi che sono usciti sono stati proprio i cagnolini, adesso hanno fatto anche i gattini e pian piano vengono fuori delle razze sempre nuove, così a uno viene voglia di collezionarli sempre di più. E insomma, reagiscono in maniera abbastanza completa. Infatti camminano, muovono il corpo, muovono la testa, possono prendere delle cose con la bocca, e si possono muovere sia attraverso il guinsaglio, che si aggancia al collare, che con le mani. Infatti sul dorso hanno una specie di pulsantino, insomma, per metterci il dito, e attraverso quello lì, muovendoci il dito dentro, si muove anche l'animale. E noi abbiamo queste due confezioni. Una ha anche degli accessori come la cuccia, la ciotolina, mentre le altre sono più semplici e hanno soltanto il guinsaglio, e un osso, oppure il vomitolo per il gattino. Ecco, vedete, attaccando il guinsaglio di plastica rigida, si può far camminare l'animale ovunque, si può far abbassare per bere, per mangiare, poi c'è una spazzolina per fingere di pettinarlo, ovviamente non ha i peli, però i bambini giocano, possono giocare come vogliono. E questi magneti sono molto, molto potenti, infatti, mettendo il guinsaglio lì, non è che si stacca facilmente, anzi, rimane proprio ben attaccato, anche se lo lasciamo, rimane attaccato. E muovendo la testa si muovono anche gli occhi. Ora, qui del gatto non si vede tanto bene, però dopo vedrete come il cagnolino, ad esempio, si vede proprio che muove su e giù gli occhietti. Ecco, si può mettere dentro il trasportino, e insomma, ci si può giocare veramente in un sacco di modi. E la cosa, appunto, secondo me più bella, è che non funzionano con le batterie, perciò non c'è il problema che prima o poi si scaricano e non funzionano più. E sono praticamente un pezzo unico, non si smontano, sono molto resistenti, possono cadere, cioè sono caduti i nostri veramente tante volte, perché questi che abbiamo aperto non sono i primi che abbiamo avuto, ma ne avevamo già due, adottati due. E sono veramente resistenti. Ecco, l'unica cosa, bisogna stare un po' attenti agli accessori più piccoli, perché si possono perdere, però, insomma, alla fine il giocattolo funziona lo stesso. Hanno dei collarini, sul quale si applica un adesivo, su cui si può scrivere il nome che daremo al nostro animaletto, per adottarlo proprio in maniera ufficiale. Ecco che si danno un bacino, perché hanno dei magneti, appunto, sulla bocca e sul collare, quindi, oltre ad afferrare gli oggetti appositi, possono anche avvicinarsi tra di loro e darti i bacini. Insomma, questi sono i Pet Parade di Giochi Preziosi, e spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate visto un po' come funzionano. a noi piacciono molto. Allora, vi saluto e ci vediamo presto con i prossimi video, con tanti altri giocattoli. Ciao a tutti!